Perfetto, allora direttamente da Zafferano e Pnea, io mi chiedevo, giusto così, ma da quanto tempo non mangiate? Sui monti non arriva il cibo, eccola. No, è che sarà l'aria forse del mare che ti ha fatto venire un po' da appetito. No, no, scherziamo, complimenti. Allora, abbiamo visto qui, stiamo vedendo due fantastici aperitivi di pesce, già li conoscevate i nostri aperitivi? Ah, ho visto qualcosa. Visti su Instagram. Su Instagram, va bene, allora, signori, visto che il cibo è tanto, ci vuole parecchio tempo, vi lascio e buon appetito. Un saluto. Ciao. Ciao, ciao. Vediamo prima questo? Così.